Il governo ha definito le nuove regole anti-Covid Quarantene limitate o alzerate per chi ha ricevuto la seconda e terza dose Più limitazioni per i non vaccinati, continua la crescita dei nuovi casi A Milano sarà un capodanno blindato La prefettura ha infatti annunciato una stretta dei controlli Per evitare il diffondersi del contagio Vietati assembramenti e brindisi per strada A Buccinasco e scontro tra Comune e ATS sui tamponi La Giunta aveva proposto di farli anche nella sala consigliare Per ATS vanno fatti solo nelle farmacie Il sitaco protesta Il Comune di Broni ha approvato le linee programmatiche per i prossimi 5 anni Tra le priorità della Giunta ci sono il nuovo liceo E l'avvio del terzo e ultimo lotto di bonifica della Fibroni Nel presepe della Chiesa di San Giuseppe a Cascame a Vigevano Trova spazio anche la cupola di San Pietro La ricostruzione è stata eseguita con una particolare cura dei dettagli Questi titoli della giornata La situazione sanitaria in apertura Le nuove regole del governo emanate nelle scorse ore Ci sono delle distinzioni per chi ha ricevuto la terza dose Per chi invece non l'ha ancora fatto la cosiddetta dose booster Ma ci sono anche delle nuove limitazioni per i non vaccinate Allora andiamo a sentire tutto nel servizio Di Armando Bidone Quarantina zerata per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo E ha ricevuto la terza dose di vaccino O la seconda da meno di 4 mesi Mentre viene dimezzata da 10 a 5 giorni Per chi ha fatto il secondo vaccino Ma da più di 4 mesi E questa è una delle principali misure Prese dal Consiglio dei Ministri Guidato da Mario Draghi Che ha cercato così di correre ai ripari Davanti a un'inattesa impennata di contagi Spinti dalla variante Omicron Che rischiano di mandare in tilt il paese Nonostante le ospedalizzazioni Parametro chiave per il passaggio in zona gialla o arancione Rimagano sostanzialmente sotto controllo Proprio per effetto dei vaccini Restano uguali invece le tempistiche Perché è risultato positivo ad un tampone Ovvero 10 giorni di quarantena E a seguire tampone negativo Manca ancora il testo del nuovo decreto E rimane l'incognita su quando entrerà in vigore effettivamente Ma gli indirizzi sono chiari Niente giro di vite Poi, come richiesto da alcuni Per alleggerire il sistema dei tamponi Per il Green Pass al lavoro Per tutti i lavoratori Basterà il certificato base Ovvero quello che si ottiene con i tamponi E senza vaccino Ad eccezione di operatori sanitari Docenti e forze dell'ordine Per i quali è già attivo l'obbligo vaccinale Dal 10 gennaio ci sarà invece la stretta Sulla capienza di stadi e palazzetti E l'introduzione del Super Green Pass Transfer alberghi, fiere, servizi di ristorazione all'aperto Impianti sciistici, piscine, centri benessere E soprattutto trasporti La decisione è aggiunta mentre in Italia Si è verificata un'impennata di oltre l'80% Di nuovi casi di Covid Si è registrata anche una crescita Del 20,4% di ricoverati con sintomi E del 13% di persone Che necessitano della terapia intensiva Aumentano purtroppo anche i decessi Dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024 Con una media di 146 al giorno Rispetto ai 126 dei sette giorni precedenti In 45 province italiane Inoltre l'incidenza supera i 500 casi Per 100.000 abitanti Ai primi posti ci sono le province lombarde Dai 1.243 casi di Milano Agli 891 di Pavia In sesta posizione Andiamo adesso a dare un'occhiata Alle nuove vaccinazioni Anche nuovi positivi Come sempre con la nostra grafica Le dosi somministrate ieri Sono state quasi 600.000 Più di 599.000 111.000 in Lombardia Per quanto riguarda invece I nuovi positivi Questo è un numero che rimane stabile Rispetto alle 24 ore precedenti Ma comunque molto alto Come vedete A livello italiano Si è registrata una crescita 645 Sono 1.171 invece in Lombardia 1.519 in provincia di Milano E 1.136 in provincia di Pavia Adesso andiamo a dare un'occhiata Invece più nel dettaglio Alla situazione dei contagi Nella Biatense Nel Magentino E nella zona sud di Milano Il servizio cura di Stefano Galimberti Sono nell'ordine delle centinaia Le persone positive al covid In quarantena A seguito di contatti Compositivi Nei principali centri Del Magentino A Biatense Del sud di Milano Ad Abbiategrasso È stata superata Quota 300 356 Anche a Corbetta Con altri 250 In quarantena fiduciaria Pensate che In tutta la zona Ha aumentato Con un numero incredibile Sono aumentati esponanzialmente Ci sono comuni Che hanno l'indicatore Di nuovi positivi Settimanali Su 100.000 abitanti Che la soglia Di attenzione 250 Sono alcuni comuni Che sono a 1.400 Ecco però Sono i nuovi positivi Ma attenzione Ecco Sono nuovi positivi Ma non vuol dire Che sono Sono positivi Ma non vuol dire Che stanno male Sono gravi Sono seri Quindi Ecco Questo È un dato Intanto Da tenere sotto controllo A Magenta I cui dati pubblicati Rimangono però Quelli della scorsa Settimana Sono 156 Che fanno pensare A numeri simili Agli altri due centri Principali del territorio Questo perché L'ordine di grandezza Del Magentino A Biatense È lo stesso Anche del Sud Milano A Trezzano Sul Naviglio Sono 317 I positivi A Cesano Boscone 456 A Bucci Nasco Sede come corbetta Di un'intensa Campagna di screening Già da settimane I cittadini Positivi al Covid Sono 539 Mentre 327 Quelli in quarantena Fiduciaria Numeri Che fanno arrivare A 900 I cittadini Che rimarranno Chiusi in casa Nei prossimi giorni E nell'Inter Milanese C'è una polemica Che riguarda I tamponi Ed è quella Tra il comune Di Buccinasco E ATS Sentiamo perché Tamponi Solo in farmacia Non nella sala consigliare Adibita da tempo Dal comune Per questioni logistiche Questo l'ultimo motivo Di scontro Fra il comune Di Buccinasco E ATS Dalla previsione Da quello che stiamo vedendo Ma anche dalle Mi verrebbe una parolaccia Dalle scellerate Scelte Di ATS Regione Lombardia Temo Che verranno Nelle prossime ore Ulteriori problemi Che dovremo affrontare Ancora una volta Sappiamo che saremo Soli Ad affrontarli Non ci spaventa Vorremmo però Poter decidere Quello che c'è da fare E non ci viene concesso Neanche questo Faccio un esempio Per tutti Noi abbiamo Appena Recentemente Ristrutturato Completamente Ristrutturato La sala consigliare Con i locali Adiacenti È tutto a norma Sanificato Con tutta una serie Di accorgimenti Molto tecnologici Che sono stati Ingredientati Avremmo potuto Avremmo voluto Spostare L'attività Di tamponamento In quel luogo Perché è più accogliente Al caldo Le persone In attesa Si possono sedere Ci sono più di 100 posti A sedere Ma non ci viene concesso Di farlo A TS Regione Lombardia Sostengono Che bisogna farli Nelle farmacie A prescindere Da come sono fatte Le farmacie Ovviamente Solo Quasi Esclusivamente Le farmacie comunali Di tutti i comuni Stanno Sobbarcandosi Questo Questo sacrificio Le farmacie private Li fanno Sì Ma magari Su prenotazioni E un numero Molto limitato E a Milano Intanto si preannuncia Un capodanno blindato La prefettura Ha annunciato Un giro di vite Per i controlli Soprattutto nei luoghi Più sensibili Della città E saranno vietati Ovviamente Assembramenti E brindisi Quello di Milano Sarà un capodanno blindato A causa del sempre più veloce Aumento dei contagi Nel pieno della quarta ondata La prefettura Ha infatti annunciato Una stretta Dei controlli Anticontagio Per i giorni Di vacanza Ma soprattutto Per i festeggiamenti Dell'ultimo giorno Dell'anno Da Palazzo Di Otti Dunque Comunicano Che per capodanno Verranno messe in atto Misure rafforzate Dei servizi Di controllo Su tutta la città Metropolitana Che prevedono Sia il controllo Del territorio Sia la verifica Negli esercizi pubblici Per quanto riguarda I servizi Delle forze Dell'ordine Su strada Carabinieri Polizia Vigili Guarda di finanza Effettueranno Controlli itineranti Con l'obiettivo Di scongiurare Assembramenti Vigilare Sull'utilizzo Delle mascherine All'aperto Nel luoghi al chiuso E sui mezzi Di trasporto pubblico Sorsvegliati Speciali Saranno però Quattro punti Della città Considerati I più sensibili Ci sono le due Grandi piazze Del centro Duomo e Castello Che visto lo spazio Potrebbero portare Le persone A pericolosi Assembramenti Per festeggiare La mezzanotte Ma ci sono anche La zona dei navigli Da sempre punto Di ritrovo Dei giovani Per la movita notturna Con una particolare Attenzione A via Gola Una delle vie Più turbolente Di Milano Dove il capodanno Del 2019 Alcuni giovani Appiccarono un falò Aggredendo anche Vigili del fuoco I dipendenti AMSA Che cercavano Di fermarlo E infine La zona di San Siro In particolare Piazzale Selinunte Dove proprio Lo scorso anno Quando c'era anche Il coprifuoco Nella zona C'è stata una lite Tra molte persone Che si è poi conclusa Con una sparatoria In strada Insomma Un capodanno blindato Che vieta festeggiamenti E brindisi In strade Piazze E vie della città Ma che soprattutto Come sottolinano Dalla prefettura Chiede ai cittadini Di festeggiare Sì Ma nel rispetto Delle regole E sono tante in queste ore Le cancellazioni di eventi Proprio ridosso Del capodanno A Mortara Sindaco Facchinotti Ha spiegato Il provvedimento Che riguarda La sua città Con la situazione Poco serena Per l'aumento Dei casi Di positività E' stato annullato Il concerto Del primo dell'anno Mentre il concerto Degli off Neutrals Dell'8 gennaio E' stato rinviato Al mese di marzo E torniamo a Milano Dove invece Nonostante L'aumento Dei casi Nonostante le tante quarantene I servizi essenziali Della città Per il momento Stanno reggendo Sentiamo Se l'aumento Dei contagi Delle quarantene Da un lato Fermatrenord L'azienda ferroviaria regionale Costretta a cancellare Circa 100 corsi al giorno A causa della mancanza Di macchinisti Capitreno A Milano I servizi pubblici Per il momento Riescono a resistere Infatti Se anche si registrano Diverse defezioni Di dipendenti pubblici Per positività Al Covid-19 E per le quarantene I servizi del trasporto pubblico Locale di ATM Quelli di AMSA E del Comune Per il momento Procedono regolarmente Per quanto riguarda ATM Il servizio Già ridotto Per le festività Di Natale Non ha risentito Delle difezioni Per malattie Da Covid-19 Per il momento Infatti L'azienda Del trasporto pubblico Locale Conferma La regolarità Del servizio Sia in metropolitana Che in superficie Grazie al personale Che riesce a coprire Tutti i turni Lo stesso vale per i servizi Di pulizia Gestiti da AMSA In questo momento Fanno sapere Dall'azienda Tutti i servizi Sono svolti Regolarmente L'attenzione È ovviamente massima Per organizzare al meglio Le attività E rispondere tempestivamente Ad un pur possibile Aumento delle assenze Per il personale Di Palazzo Marino Le assenze Per Covid-19 Finora Hanno determinato Solo la chiusura Dello sportello Della anagrafe Di via Baldinucci La chiusura Della sede anagrafica Non ha però comportato L'arresto Delle prestazioni erogate Gestite online O dirottate Su appuntamento All'anagrafe territoriale Di largo De Benedetti Per quanto riguarda Infine le forze Dell'ordine Dalla questura Fanno sapere Che ancora Non hanno dati precisi Ma che al momento Il numero dei positivi E del personale In quarantena Non danneggia La regolarità Dei servizi Parliamo d'altro Ci sono delle novità Per quanto riguarda Il caso Del medico Di medicina generale Che manca Nei comuni Della bassa Lomellina Ci sono delle novità Perché La direttrice Di ATS Lorella Cecconami Si è detta Di Ha detto di essersi Fatta carico Di questo problema E che ne discuterà Con i sindaci Del territorio Si aprono spiragli Per la vicenda Dei paesi Della bassa Lomellina Che da ormai Nove mesi Combattono Per tornare Ad avere un medico Dopo i pensionamenti Che hanno lasciato scoperti I comuni di Suardi E Gambarana E fortemente limitato Il servizio A Pieve del Cairo La nuova direttrice Di ATS Pavia Lorella Cecconami Si è fatta carico Del problema Così come di altre situazioni Del territorio provinciale In cui si avverte Fortemente La carenza di medici Nella giornata Di mercoledì Si è svolto Un incontro tecnico Che non ha portato Soluzioni nell'immediato Il sindaco di Gambarana Franco Cattaneo Però esterna Una rinnovata fiducia A seguito dei colloqui Avuti negli ultimi giorni Io ho avuto Un colloquio Una lunga conversazione Telefonica Con l'attuale Direttore generale Da dottoressa Cecconami La quale Mi è sembrata Un topropensa A darci una mano Riassumo Molto velocemente Da marzo Dell'anno scorso Noi non abbiamo Un medico Siamo tre paesi Uno adiacente all'altro Due non hanno Un medico In ambulatorio E uno Ne ha uno soltanto Che è sotto pressione Eccetera Avevamo chiesto Appunto Di poter avere Un nuovo medico Ne avevamo trovato Uno Che era disponibile Dopodiché Vabbè Non è stato possibile Per creare Una Una Passaggio Di questo dottore Da noi Gli amministratori Dei tre comuni La scorsa primavera Avevano ottenuto La disponibilità A coprire l'area Da parte di un medico In servizio a Valle Lomellina Che sarebbe venuto Negli ambulatori Dei paesi Ma essendo Di un altro ambito Geografico Era arrivato Un andola burocratico Che aveva impedito Di percorrere Questa soluzione Un'ozione Che si sta cercando Di riconsiderare Non escludendo Però ulteriori alternative Nel mese di gennaio Verranno fissati Nuovi incontri Convolgenti ATS E le varie parti Tecniche In causa Sperano 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 I nostri vecchiotti Perché la situazione È tanto Veramente Tanto Difficile In più Ci si mette Anche il covid Eccetera Una notizia di politica Adesso Il direttivo regionale Della Lega Ha chiesto La sospensione Per dieci mesi Dal partito Di diversi Esponenti Pavesi Che nelle scorse elezioni Provinciali Hanno appoggiato La lista Dei dissidenti Guidata da Angelo Bargigia Contro quella Ufficiale del centrodestra Vi ricorderete Guidata da Luigi Palli che rischiano dunque la sospensione, l'europarlamentare Angelo Ciocca, il consigliere comunale di Pavia Roberto Mura, che rischia anche di decadere dal suo ruolo di capogruppo in consiglio, Cristiano Migliavacca, Andrea Scagni ed Enrico Tessera. Il direttivo ha chiesto anche l'espulsione di Luigi Sant'Agostini. Tutte queste richieste di provvedimento saranno ora valutate dagli organismi federali che avranno l'ultima e definitiva parola in merito. Torniamo a Milano dove continuano le operazioni di sgombero e di ricovero dei senza tetto che dormono per strada, soprattutto di quegli riducibili che non vogliono lasciare il loro posto nonostante si preannuncino temperature rigide in queste notti. Continua l'operazione di sgombero e di ricovero del Comune di Milano dei senza dimora nei sottopassi della città e questa volta lo fa con il placet della Prefettura che durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso la piena condivisione delle operazioni di Palazzo Marino per aiutare quei clochard che nemmeno d'inverno vogliono abbandonare la strada anche in previsione di un abbassamento delle temperature sotto lo zero nelle prossime settimane. Al centro dell'operazione ci sono così tunnel e sottopassi, in particolare quello della stazione centrale già interessato da uno sgombero il 17 dicembre scorso, intervento che era però costato al sindaco Beppe Sala diverse contestazioni per come era stata effettuata l'operazione senza preavviso e poi mandando dei camion dell'AMSA a rimuovere materassi e coperte abbandonate dai senza dimora che erano stati portati nei centri di accoglienza. A commentare la notizia anche l'assessore regionale alla sicurezza e immigrazione e polizia locale Riccardo Decorato che sottolinea che a Milano i senza dimora che rifiutano gli aiuti del Comune preferendo rimanere in strada nonostante l'inverno sono circa 600, un numero alto che secondo l'assessore è a causa dell'insicurezza che caratterizza i dormitori comunali. Palazzo Marino, commenta Decorato, dovrebbe impegnarsi a risolvere quanto prima questo problema soprattutto dopo il drammatico appello lanciato nella giornata di Natale da Alberto Sinigallia presidente di fondazione Progetto Arca secondo il quale nel 2022 potrebbero finire in strada accanto ai clochard diverse famiglie anche con figli minori che si sono gravemente impoverite a causa della pandemia con la perdita del lavoro e spesso con lo sfratto. Come ripeto da tempo, la soluzione è semplice, basterebbe mettere i ghisa a controllo delle strutture di notte per garantire a chi entra nei dormitori comunali sicurezza, conclude l'assessore. Voltiamo pagina, buone notizie per i comuni del Tg del Ticino, sono in arrivo 8 milioni di euro di finanziamenti dalla giunta regionale. Il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera al bilancio di previsione 2022-2024 un bilancio da 28 miliardi per cui i consiglieri regionali della Lega, Cursio Trezzani, ex sindaco di Bofalore e Silvio Scurati di Bareggio hanno espresso la loro soddisfazione visti anche gli 8 milioni di euro che saranno dedicati ai comuni del Ticino. Sono oltre 100 i milioni di euro messi a disposizione dai comuni della Lombardia per interventi sul patrimonio pubblico. Di questi, 8 milioni e mezzo sono riservati alle amministrazioni dei paesi della città metropolitana di Milano che rientrano nella zona di competenza del provinciale della Lega del Ticino. Un'area che va da Bofalora a Biategrasso da Parabiago a Santo Stefano passando per Bareggio, Magenta, Cerro Maggiore, Legnano e Marcallo Concasone. Il referente provinciale del Ticino della Lega Alessio Zanzotto era così dichiarato sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti da Regione Lombardia e soprattutto di quanto fatto dai rappresentanti della Lega in consiglio regionale tra i comuni e le opere finanziate. La parte più importante va a Bofalora che ottiene un milione di euro per la riqualificazione del Parco Miglio ossia da Biategrasso a cui arriveranno 150 mila euro per l'area fitness nel Parco Comunale altri 100 mila euro per una pista da skateboard sempre nello stesso parco e poi 250 mila euro per la manutenzione del muro di Cinta della Fossa del Castello e 300 mila euro per interventi al Parco della Repubblica. Il Comune di Broni inoltrepo ha invece annunciato le linee programmatiche per il prossimo quinquennio le priorità saranno il nuovo liceo e ovviamente il termine della bonifica alla Fibronit. Nuovo liceo e avvio del terzo e ultimo lotto di bonifica della Fibronit quello che metterà una pietra sopra questa dolorosissima vicenda umana industriale iniziata ormai quasi un secolo fa. Sono queste le priorità approvate dal Consiglio Comunale di Broni per il 2022 nel corso dell'incontro di mercoledì sera. I due punti fanno parte delle linee programmatiche di mandato per il prossimo quinquennio. Le priorità sono sicuramente l'amianto, quindi liberare la città dell'amianto quindi con la prosecuzione della bonifica, anzi la realizzazione del terzo lotto insomma per l'area Fibronit e poi il progetto di riconversione di tutta l'area la realizzazione del nuovo liceo, la riqualificazione di Piazza Italia il rilancio del PREST, i temi legati anche alla viabilità e alla tutela dell'ambiente in generale con il dissesto idrogeologico e il nuovo piano di governo del territorio e poi tutte le altre attività a sostegno del commercio, della promozione delle attività culturali, della scuola e delle politiche giovanili. Nei mesi scorsi si era diffuso una fake news secondo la quale i testimoni di Geova sarebbero stati contrari al vaccino una fake news che loro stessi hanno smentito allora sentiamo Paolo Barri I testimoni di Geova non sono contrari ai vaccini anche le comunità locali rilanciano il messaggio espresso a gran forza a livello nazionale dopo la diffusione di alcune fake news in tutto sarebbe nato da una triste vicenda avvenuta in provincia di Pistoia dove un'intera famiglia, padre, madre e figlia, è deceduta a causa del coronavirus nessuno di loro era vaccinato i genitori erano testimoni di Geova da lì si sarebbe diffusa una falsa credenza secondo cui l'intera comunità sarebbe stata Novax cosa che non corrisponde al vero e purtroppo si sono diffuse delle fake news in cui siamo stati accostati erroneamente alla posizione Novax ciò ha contribuito in questi giorni a un caso mediatico di fake news che è stato denunciato apertamente anche dal Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza il LIREC la dottoressa Di Marzio, direttrice di LIREC ha spiegato come queste fake news strumentelizzano il pregiudizio religioso e arrecchino un grave danno a una confessione religiosa come la nostra la posizione ufficiale dei testimoni di Geova riguardo al vaccino è che si tratti di una scelta personale la comunità nel contempo incoraggia chi può farlo a vaccinarsi e ricorda che la quasi totalità dei suoi volontari è vaccinata come si può leggere anche sul nostro sito www.org i testimoni di Geova non sono contrari ai vaccini riteniamo che quella di vaccinarsi sia una decisione personale come cristiani attribuiamo grande valore alla vita e al benessere della comunità pertanto nel corso della pandemia abbiamo pubblicato molte informazioni e video proprio con l'obiettivo di incoraggiare chi può farlo a vaccinarsi un dato significativo è che il 99% dei volontari che servono nei nostri uffici in tutto il mondo si sono vaccinati dal 1 gennaio entreranno in vigore una serie di nuove norme per il codice della strada sono previste multe più salate per diverse infrazioni sentiamo dalle multe triplicate per chi parcheggia in uno spazio riservato ai disabili alle nuove regole per i monopattini elettrici che però non hanno soddisfatto appieno le aspettative di chi chiedeva un pugno di ferro dopo numerosi incidenti anche gravi accaduti nel corso dell'anno sono alcune delle novità del codice della strada che entreranno in vigore con il 1 gennaio 2022 ad iniziare come accennato dall'inaspirimento delle sanzioni per chi abusa di posti riservati o pass per disabili per un parcheggio nell'area dedicata da sabato la multa passa da 165 a 660 euro con decurtazione di 4 punti sulla patente quadruplicata anche la sanzione per chi usa un pass scaduto o di un'altra persona dai 168 euro attuali a 672 e saltano 6 punti sulla patente mentre i disabili che trovano lo stallo dedicato occupato potranno sostare gratuitamente sulle strisce blu niente stretta invece sull'uso del cellulare alla guida è stata soltanto introdotta la dicitura specifica che riguarda smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante mentre prima ci si riferiva genericamente ad apparecchi radiotelefonici la multa per i trasgressori però rimane la stessa da 165 a 660 euro e la sospensione della patente scatta soltanto in caso di recidiva nel biennio ritoccate infine anche le regole per l'uso dei monopattini elettrici anche se sono rimaste fuori le modifiche più attese come il casco anche per i maggiorenni l'assicurazione RCA obbligatoria, la targa e la patente le novità introdotte riguardano invece la velocità massima l'obbligo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote il divieto di sosta sui marciapiedi e quello di circolare contromano ora invece vi mostriamo le immagini del presepe della Cascame a Vigevano dove è stata collocata una riproduzione della cupola di San Pietro la natività collocata all'interno di una riproduzione della cupola di San Pietro è questa la scelta per il presepe 2021 della chiesa di San Giuseppe in Cascame a Vigevano dove già in passato erano state pensate rappresentazioni originali per ricordare la nascita di Gesù la particolare ambientazione è un rimando alla dedicazione che Papa Francesco ha fatto all'anno 2021 in onore di San Giuseppe, patrono della chiesa universale quest'anno, essendo l'anno di San Giuseppe noi siamo un catalogo di San Giuseppe in Biotosi abbiamo pensato che essendo il patrono della chiesa universale abbiamo l'idea, è stata quella di fare il cupola di San Pietro che è madre di cupola di chiese e quindi fare lì la nascita la ricostruzione della cupola di San Pietro è stata eseguita con particolare cura dei dettagli una fontana inoltre ricorda le atmosfere romane evocate dagli artigiani che hanno realizzato il presepe questo è stato realizzato con sommarte da parte dei collaboratori in particolare di Ciladegna e anche qualche dio parochiano chiudiamo con una notizia che arriva da Pavia oltre mille doni sono stati distribuiti grazie all'iniziativa Un Regalo per Ogni Bambino non si tratta di giochi ma anche indumenti, panettoni e prodotti per l'igiene personale la raccolta era stata avviata presso Bar a Gorizia per rimarcare l'importanza di tenere aperti i luoghi di ritrovo e il gruppo promotore dell'iniziativa, quelli che credono nel Natale tutto l'anno ha annunciato per il 2022 un altro appuntamento benefico una calza per ogni bambino in occasione della Befana era l'ultimo servizio, grazie come sempre per averci seguito io vi ricordo che domani andrà in onda il Tg dell'anno un riassunto dei fatti più importanti di questo 2021 grazie ancora per averci seguito, una buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti